Dopo circa una settimana ho ripreso in mano il gioco pronto per il quinto capitolo della serie Quinto e ultimo non considerando il bonus perché c'è anche un capitolo bonus che poi andremo a vedere Facciamo un breve ricapitolo di quello che abbiamo fatto Siamo nella merda, siamo giunti nel culmine della serie e praticamente io ho già un piede nella fossa se non due Perché sono stato morso e a breve morirò e diventerò un vagante o un errante come li chiamano qua Però dobbiamo fare assolutamente una cosa che è salvare la piccola Clementina Quindi bando alle ciance entriamo nel vivo dell'azione Ah ok ci fa il ricapitolo del episodio precedente E io non sono lì, ho il mio walkie talkie in caso si provano così Ehi, c'erano alcune batterie in una di queste boxe Qui, tu puoi avere alcune anche Credo che dovremmo guardare i tuoi bambini Non ci sono sempre in un'altra parte quando andano là La casa di Marsella? Sì, è proprio Non venivano a la città dalla città, hai detto? Gordelli! L'erranti! Infatti, visto che mi hai fatto il casino Ok, occhio perché qua siamo già nella shit, dobbiamo rispondere giusto a sto bastardo Sì, vabbè, anche se non me lo ricordi sono al quinto capitolo, vabbè Do cazzo siamo? Non eravamo mica nel magazzino Ma che cazzo? Vernon Nonna Clementine, sei bene? O... dove sei? Vernon, che figlio! Doli Chi è questo? Non è Vernon, è quello che pensi? E tu dovresti guardare il tuo tono Clementine è bene Ma se sei tu Ho scelto le mie prossime parole molto attenzialmente Please, non lo scelto Ah, si ricorda quello che ho scelto prima Ma che cazzo Ma che cazzo Vengo a prendere Vengo a prendere Sì, cazzo Vengo a prendere Ma che non ti preoccupare Niente Non è chiudere Ma... Cazzo No, non è vero Non ci sono più di tempo Ma... Ah, ok Ma si, lasciamolo lì Non l'ho capita Perché è contento che sono venuto da solo? Attrezzatura chirurgica Che cazzo è? Un tubo per la colonoscopia? Quello da infilare nel retto? Empty Come direbbe lui Cazzo è? Divaricatore? Oh cazzo Ma cos'è? Rick per auto? Ma che cazzo? Vabbè Oh figli gli zombie lì sopra Empty Empty Non lo dice no Allora questi non posso usarli Questo che cazzo è? Pentolone per... No no una bilancia no Non so neanche cosa sia Ok Niente per di qua Sì che cazzo è? Le ali della libertà cazzo Vabbè andiamo su di qua vediamo Eh quante Quante scelte ho qui io Allora Allora posso guardare e direi che è la prima cosa che faccio Eh Vabbè Qua provo ad aprirla Provo a sparargli E direi anche no Beh provo ad aprirla intanto Tanto non si aprirà Ok Che versi fa? E quindi usiamo L'oggetto qui per le torture Vai Eeeh Svorone Ah però comodo eh Così quasi me lo compro su Amazon Che cazzo? Ah sta iniziando a star male Porca puttana Eh dai eh Resisti un po' Merda Eh 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 Ah così Porca zozza E quindi? Lee Wake up Che cazzo ti è successo? Tutto bene? Eh adesso gli dico la verità questo Quanto cavolo E' successo questa Dannazione Lee Eh eh Volevo dirti In realtà Nooo aspetta 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 Ah No non ho fatto in tempo Thanks God I found your goddamn secret You dumb son of a bitch You were bitten? Fuck man When were you God It happened before Eh no I don't know I don't know Ma come? Eh beh Ma va a far culo Sì dai vai 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 farà male Ma va Ma perché me lo dice Eh sì Ragazzi se siete deboli di stomaco Non guardate sta scena perché Beh cazzo si E quindi Minchia Capitano Ovvio E infatti Oh Cazzo Cazzo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ripeto se siete Vabbè ormai è successo Chi l'ha visto Mi spiace se avete vomitato ragazzi ma Dovevo farlo Beh magari si salva Che sai che ho me Cos'è il moncherino Figa Eh eh porca puttana La mano rimane lì Porca Eva Sono curioso di capire Eh sì si chiama Arto Fantasma Eh quanto ne so Ma che cazzo stai a dire Minchia sta delirando Ma cosa vuol dire Non voglio sanguinare addosso a nessuno Ah lui forse Bello però Eh appunto Con un braccio Comunque ci puoi mettere un uncino lì eh Volendo lo sai Scritto da Sean Benhaman Ma ci sono ancora i titoli di testa Minchia Terribile Non è un grande problema Un'altra arma Per arampicarti Ahia Che cazzo Che cazzo è successo Sali Cazzo ti fermi a fare C'è la pop Eh la madonna Quanta Quante scale ancora Ma poi attenzione a chi non c'è nessuno Vabbè Non ho cagato nei pantaloni Vabbè Basta Basta di stronzate Quello che sto dicendo In realtà Poca troia Salve No scusi signorina No 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 Ma sta finta che non ci sono Vado avanti ad errare Senza di me Ok 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 No siamo sul tetto Bene No No help Vabbè Eh Ce ne sono un po' eh No Non c'è la tua parte Hai perduto il tuo spirito? Sì, non mi trovi un altro Ho un obiettivo, senti? Sì, figlio, lo so Dobbiamo andare fuori questo rufo così fasto che possiamo Sto con te, ma solo bisogna trovare un modo di andare a casa sicuramente Credo che il passo 1 è trovare una direzione Volto verso la mansione è il mio voto Sto tornato a mano Certo, infatti salviamo Clementina Che poi ce la mangiamo a Natale Clementini Ok, allora Diamo un'occhiata Around here Un povero stardo è caduto A stardo caduto Ahah beh Ma no dai, ma cos'è sta roba Praticamente stava scrivendo No help che non ha alcun senso ed eppure è caduto ed è morto In effetti da una parte gli starà anche bene L'ospedale sembra si è caduto da doktori Non è assurda se stitua sta cosa di più Vabbè Si o si è fuori da qualsiasi accaduto E questo non significa molto Eh appunto anche perchè alla fine Che cazzo fa? Si è suicidato, si è buttato giù Magari era già un vagante, un errante Vogliamo La barca ce la saranno presa gli altri Non l'ho capita questa sinceramente, me la son persa Oh Eh 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 più o meno Comunque più bello morti viventi Tra l'altro probabilmente anche l'alba Quindi l'alba dei morti viventi No 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 Troppo scontata forse Allora Eh si allontanati Con quale telecamera me lo fai? Vabbè Ma di qua non posso andare Di qua torno indietro Ma io direi che non c'è molta alternativa eh Ah ma posso parlarci? Vediamo Un minuto di pausa Si ammira il panorama Ma ti pare il momento? Ma dai È solo tutto Nooo non lo so dimmi Grazie 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 Che questa domanda Da un milione di dollari E la madonna migliaia Ci distante Certo Che l'alba No Allora Va I Non No Non ho detto niente, non ho fatto niente io. Tranquillo, ti do una mano io. Vabbè, era brutta questa, lo so. Eh, ma t'ho detto di guardare. Eh, anche perché non c'è nient'altro. Ok. Vabbè, scusa, ma abbiamo una scala. Johnny, andiamo a recuperare la scala. Che dobbiamo trasportare con una mano, ma... Eh, dai, eh. Eh, infatti adesso me la fa prendere, ottimo. Mi spiego, non mi spiego come cazzo... Ok. Ok. Eh, il problema adesso... Eh, ma mamma, this... E' la sola possibilità che ho avuto. Sì, guardate. Logica come cosa, in effetti. Piano, eh. Piano. Minchia. Piano, piano. Eh, giusto. Mi sembra logico. Perfetto. Magari, guardate. Sì, guardate. Magari, guardate. Sì, guardate. Ma, scusa, eh. Posso dire una stronzata. Se magari tu da dietro me la tieni la scala, forse c'è meno possibilità che si rompa, no? No, eh. No. Vabbè. Eh, vabbè. Lo sapevo. Vai, muoviti, porca puttana! Ho occupato uno zombie. Eh, insomma. Ho avuto un'altra mano. Non mi scusa. Cosa di trovare un'altra strada. Ma dai. Però dai. È simpa. Sono contento di stare insieme a lui. Ma, scusa, eh. Adesso, tra parentesi, probabilmente cambierebbe completamente tutto, perché poi all'inizio, tipo il secondo capitolo, quando devi scegliere se salvare un ragazzo e il bambino di questo, e salvavo il ragazzo, questo sicuramente non ce l'avevo qui. Chissà che avrei avuto. Cazzo, questo gioco per queste cose è veramente spettacolare, davvero. Ma intanto alziamo qua. Non ho capito cosa possa servire. Sì, piazza. L'exito in qui è fermato! Eh, appunto. Prima di suonare il campanile volevo trovare una soluzione. Ma a quanto pare non vedo molte alternative. Quindi già so cosa dovrò fare. Un bel salto di quelli giusti. Vabbè, tira. Dai, venite alla messa, erranti. Inizia la messa. Inizia la messa. Inizia la messa. Eh, 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 mica, mica com'è da dire. Come cazzo torno lì? Eh, anche se non mi fai vedere la scala caduta. Eh, già lo sapevo. Ma va. Ma si insulta da solo, vabbè. Oh, occhio perché mi sa che ci sarà da schiacciare qualcosa qui, già lo so. Adesso arrivano zombie, succede qualcosa, lo so. Vai, 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 vai. Non so se ho schiacciato. Uh, bella l'inquadratura. Complimenti al regista. Ottimo stramaledetto. Let's get the hell off this roof.